Salve carissimi amici, tutto ben bentornato nella soffitta di camera mia, sarà un video lunghissimo, è un'anteprima su anteprima di anteprima 300 e quindi è un'anteprimona insomma. Andiamo velocemente, nell'editoriale iniziale Valentina De Poli fa riferimento a Casti in descrizione se ci riesco vi lascio il link, lo faccio il video e lo carico quindi sarà lunghissimo e mi dispiace però visto che c'è l'occasione lo carico veramente subito. Casti come sceneggiatore che farà qualcosa alla fine d'anno, viene presentato Topolino 3168 con Topolino e la banda dei cablatori parodia della banda dei piombatori che vuole in un qualche modo omaggiare una delle più belle storie di Floyd Godferson e lanciare il volume di Tesoro International dedicato a Floyd Godferson. Vedremo se la banda dei piombatori sarà presente o meno a me sinceramente sarebbe bello vedere la nuova versione, il remake su Topolino e vedere la storia originale nell'albo dedicato. Non vi anticipo già che saranno molte poche le cose che di questo anteprima acquisterò molte delle quali sono oggetti veramente particolari e di lusso. Il primo è il cofanetto speciale dedicato a Topolino la spada di ghiaccio, un cofanetto con tre albetti contenente la prima sulla storia in volumetti da 48 pagine di queste dimensioni qui. Al prezzo di 30 euro, cofanetto con le statuine dedicate ai personaggi principali della saga in particolare Pippo, Topolino e il venerabile Ior, il saggio Ior. La storia è tra le mie preferite Disney, ve lo dico già e nonostante questo non acquisterò questa edizione, la spada di ghiaccio ce l'ho già in altri formati la copertina è molto bella ma le statuine non mi interessano proprio, non ho alcun interesse ad acquistarla per le statuine oltretutto è stata ristampata da poco anche da giunti quindi la mossa è proprio proprio strana perché sembra che non ci sia dialogo tra le due linee editoriali di Topolino altrimenti una mossa del genere una dei due se la sarebbe evitata mi verrebbe da dire però ormai è così e così ce lo teniamo. Per chi non lo conoscesse la saieria consiglio di recuperare il volumetto uscito da giunti con tutta la saga se la saga la conoscete e vi piacciono le action figure potreste pensare di acquistare questa sinceramente a vedere la foto di quel Pippo ho un motivo in più per non acquistarlo non mi piace proprio la fattura di quel Pippo come è stato realizzato e quindi niente. Un po' mi dispiace perché la copertina dell'alba è molto bella ma un libro non si giudica dalla sola copertina andiamo avanti che stavo già facendo tardissimo in edizione limited deluxe edition due albi vengono proposti che sono Dracula di Bram Topker che io ho in questo formato che ha 100 pagine contro le 80 con cui verrà proposto su per l'appunto Topolino limited deluxe e Naimo Tura una storia che è un po' controversa con tra virgolette alcune rivisitazioni in chiave Disney per rendere accettabile la storia di Dracula che sarebbe estremamente cruda ma una rivisitazione molto intelligente da parte di Bruno Enna per i disegni di Celoni che consiglierei di recuperare a chi ancora non ha letto questa storia viene proposto anche Topolino e l'isola di Kandomai di Casti Casti che veniva citato all'inizio ma solamente per un album mi sembra un pochettino poco l'isola di Kandomai che è una storia scritta e disegnata interamente da Casti che strizza l'occhio a Lost quindi ai fan di Lost piacerà sicuramente e che rileggerò per valutarne l'acquisto quindi probabilmente farò una video opinione prima di acquistare eventualmente il limited deluxe o in realtà penso di acquistarlo a priori perché Casti questa qui è una delle migliori saghe di storie di Casti e tutto quanto quindi vado molto sul sicuro su Casti ci sono fan che pensano che questo formato qui sia costoso, grosso, inutile ne hanno fatto uno ancora più grosso viene proposto i numeri 1 e 2 della nuova secollana Topolino Super Deluxe Edition 64 pagine del primo albo al prezzo di 28 euro mica bruscolini per una storia che è scritta e disegnata da Giorgio Cavazzano che è Casablanca parodia che a me piacque ai tempi quando l'ha lessi in realtà in una sua ristampa in quanto non ho i topolini originali con questa storia verrà portato al look a Comics & Games avrà sovracopertina che se rigirata probabilmente formerà un poster a me sembra... l'idea è anche carina il problema è il costo che è molto proibitivo sarebbe bastato decisamente un limited deluxe se vogliamo qui stiamo parlando di un prodotto per collezionisti estremi ok quindi se siete collezionisti estremi questa storia qui potrebbe anche far piacervi resta il fatto che parliamo di 28 euro per 64 pagine viene accennato anche che uscirà il numero 2 è sempre nella stessa sede Luca Comics & Games dedicato ai Vroniani la prima storia di PKNA recentemente proposta su PKGiant in un formato a sto punto enorme ricolorato per l'occasione avrà 80 pagine quindi sarà più grande e costerà 30 euro anche qui la sovracopertina formerà un poster non penso di acquistare neanche questo per quanto mi piaccia PKNA per quanto mi piaccia i Vroniani ce l'ho già in 3-4 sarse diverse e solamente per averlo più grande non me ne vale veramente la pena questa collana qui è veramente per collezionisti estremi quindi non so quanta vita potrà avere quanti acquirenti potrà avere per quanto siano quest'anno i 20 anni di PK e questo secondo album potrebbe veramente andare alla grande staremo a vedere viene presentato anche un portfolio con le prime 20 copertine di PK in un formato ancora più grande quindi un portfolio da collezione quindi questo qui è proprio un oggetto specificatamente per collezionisti al prezzo di 50 euro vengono presentati i PKGiant numero 24 con Tyrannic storia che il ciclo di Belgravia il tipo con Morgan Firefox non mi entusiasma particolarmente però Francesco Artibani fa veramente il suo meglio per farmi apprezzare un tipo una sottotrama che non mi ha mai colpito particolarmente ecco e in quest'albo qui comunque ci riesce Papirink Upgrade che viene detto costare 3,20 euro quando il numero scorso ci veniva detto che aumentava di prezzo mi è stato segnalato su Facebook che sulle nuove cartoline per gli abbonamenti viene segnato che è l'ultima occasione per fare l'abbonamento a PK Papirink Upgrade in realtà non capisco se è un'ultima occasione per averla ad un prezzo molto scontato oppure se la testata stia per chiudere nel giro di un anno staremo a vedere il primo albo che sicuramente acquisterò questo qui è una certezza visto che da anni che voglio un albo del genere ci viene proposto in un formato grande come WAC ma più spesso quindi ancora più spesso di tesori Disney International come dimensione, come foliazione 330 pagine circa 328 a 7,90 euro non dico che sia regalato ok perché in confronto un vattela pesca quale potrebbe essere questo esatto adesso costa 5,90 euro però stiamo parlando di ok più o meno la più o meno folazione è così però più grande quindi due orini in più per un albo molto più grande a me sinceramente schifo non fa della storia della serie I Signori della Grazia serie che di cui ho letto solo la seconda storia in un albo che è molto molto rovinato molto usurato lo comprai in un mercatino delusato già messo male un euro e che adorai la follia quindi veramente non vedo l'ora di avere questo albo qui e se vi piace Star Wars se vi piace Star Wars quest'albo qui ve lo straconsiglio Topolino numero 300 3179 in edizione Variant ci viene semplicemente mi interessa per le storie contenute all'interno in quanto non acquisterò la Variant anche perché punto interrogativo non vi diciamo come sarà fatta grazie io continuo a non concepirle queste cose se fai una promozione qui può invogliare la gente non la invogli con un punto interrogativo almeno a me non mi invogli con un punto interrogativo a qualcuno le comprerebbe a scatola chiusa e quindi l'acquisterebbero comunque e quindi fammela vedere perché magari riesci a convincere qualcuno in più e invece non lo fanno 6 euro copertina misteriosa ci sarà la parodia di Frankenstein non sappiamo se saranno due parti e quali parti saranno contenute qui dentro ci sarà la parodia di Nathan Never con Ciccio Never e ci sarà la parodia di Sio e Silvia Ziche di Topolino e la spada di ghiaccio intitolata Topolino e la spada di ghiacciolo provata che si serve per lanciare il cofanetto sicuramente serve per lanciare il cofanetto ma che non mi entusiasma particolarmente per quanto sia una parodia quindi magari è una storia carina ci vengono ripresentati le storie della Baia il primo numero indefiniti il collection niente da segnalare niente di nuovo ci viene risegnalato la classic edition di Rodolfo Cimino con una cover che per quanto sia work in progress è molto avanzata a me piace veramente tanto sono favole immortale del cantastori Rodolfo Cimino una rivisitazione anche del logo quindi tanta roba tanta roba non vedo l'ora che esca però è l'albo che uscirà ad ottobre quindi l'ho già prenotato in fumetteria c'è i grandi classici nove dove c'è da segnalare le top storie che io avrei inserito sinceramente nella Definitive Collection è una collana con storie una serie autoconclusive ci sarebbe stata benissimo all'interno della Definitive Collection a mio parere poi ok posso sbagliare di Giorgio Pezzini e Massimo De Vita sono presenti anche diverse storie c'è Paperino e la legenda dello scozzese volante di Romano Scarpa c'è Paperino e il pendolo di Eccol parodia del pendolo di Foucault di Umberto Eco e tante altre storie devo capire quante top storie ci sono se ce ne sono diverse potrei acquistare l'album valuterò poi Tesoro International 4 stiamo quasi andando alla fine Tesoro International 4 è un po' particolare perché non presenta un solo autore ma ne presenta tre che sono Karl Barks, Don Rosa e Paul Murray mi preoccupa questa mossa qui perché va in contrasto va veramente tanto in contrasto con Wack ma tanto e non so se le storie qui contenute quante storie di Barks ci sono quanto va in contrasto con Wack e tante altre piccole cose che mi fanno dire non è che per avere tutto Karl Barks mi toccherà acquistare anche qualche numero di Tesoro International questo quarto numero me lo tengo da tenere sott'occhio per valutarne o meno l'acquisto i migliori anni 13 con la terza storia del ciclo di Luciano Bottaro sul ciclo Paperingio serie che mi piace anche se Paperino Paladino e il Paperino Furioso sono le due migliori e qui non ci saranno in quanto parliamo semplicemente della terza ma che per i fan delle parodie è un acquisto consigliabile Wack numero 4 dove non c'è niente di nuovo visto che è una riproposta per quanto non viene segnato come tale quindi ok viene segnalato la nuova leggenda di collection dedicata a X-Miki con la cover nuova e tutto quanto il nuovo topo storie con ok con una frame story un po' pochettino particolare in cui vediamo i ruoli di topolino e gamba di legno ribaltarsi e alcune storie in cui topolino è sempre riuscito a incastrare in qualche modo gamba di legno è un albo giallo fondamentalmente potrebbe essere interessante valuterò quando ci sarà l'indice completo se acquistarlo o meno terminiamo con Disney Omnibus numero 4 il secondo Disney Omnibus dedicato a Mickey Mouse Mystery Magazine il 2 di 2 la serie a me piacque piacque ai tempi per quanto ho alcuni dubbi su alcune storie ma in generale è una collana che mi piacque tanto il problema è che la serie chiude un pochettino male perché l'ultima storia fece un video ai tempi del primo omnibus quindi cerco di non ripetermi troppo finì in maniera molto brusca in quanto la collana non era andata al meglio quindi è stata chiusa dopo un po' di tempo in questo omnibus a prezzo di 35 euro abbiamo 400 pagine e apparentemente non è scritto da nessuna parte che ci siano le brevi il fatto che non ci sia scritto non vuol dire che non ci sia però il dubbio permane visto che le brevi avevano un filo unico conduttore almeno il primo ciclo di brevi avevano un filo unico conduttore ci stava a riunirle tutte insieme nel primo e nel secondo omnibus e visto che nel primo non c'erano potevano essere messe tutte quante qua staremo a vedere anche se il dubbio che non ci siano è abbastanza altino non sono parte integrante della trama principale però erano comunque molto molto carine molto molto divertenti con questo si chiude anteprima spero di avervi dato qualche idea qualche suggerimento le mie opinioni riguardo delle singole testate ci sono sicuramente delle testate da collezionisti estremi di cui mi piacerebbe far parte sotto certi punti di vista ma capisco che sono sono fuori proprio dalla mia portata e quindi non ci proverò neanche ad acquistare quegli albi sicuramente probabilmente acquisterò l'isola quando mai e il signore della galassia e farò una video opinione in merito quando usciranno detto questo ci vediamo al prossimo video del canale quando ritornerò dalle ferie ciao ciao